Quantum computing, quantum algorithm, computer quantistici, post-quantum cryptography, eccetera. Un mondo incredibile, affascinante, meraviglioso. Ci ho messo due anni per fare questo video, per avere qualui che adesso vi presento, ma ce l'abbiamo fatta, dobbiamo iniziare qualcosa di stupido per iniziare. Quantum serve, chi lo sa. Ciao internet, allora, scherzi a parte. Alessandro Luongo, intanto è lì, ma poi ve lo presento, questa è la faccia di Alessandro. Provo a fare prima la presentazione seria nonostante il fatto sia un amico di vecchissima data, sono due anni, vive a Singapore, due anni che volevo fare, adesso per le vacanze di Natale siamo riusciti a metterci qui nello studio, l'ho rubato un'ora. Una di quelle persone dove al tavolo quando parlo con lui mi sento stupido, una delle tante, per la carità. Cosa studia? Studia tutta la parte di algoritmi quantistici. Partiamo col CV. Ricercatore in Quantum Algorithms al Centro per il Quantum Technologies di Singapore. Ha finito un dottorato di ricerca in Quantum Machine Learning all'IRIF, se non lo posso dire, grosso, l'Istitut de Recherche... Informatique fondamentale. Esatto. E al Paris Centre for Quantum Computing... Computing. Io continuerò a dire computing, è sbagliato, dovrei dire computing, ok? Detto quello. Altre cose, un sacco di pubblicazioni, due brevetti nella parte di Quantum Technology... Nonostante il Quantum non esista, tu lo fai davvero. Esatto, esatto, esatto. Allora, intanto, grazie, ce l'abbiamo fatta, dai. Grazie a te per avermi invitato. Partiamo dall'inizio. Senza... Senza passare la fisica qua... Che cazzo è il cambio? Cosa sono i computer quantistici? Esatto. Cioè, cosa sono gli algoritmi? Cioè, perché stiamo parlando di sta roba del quantum? Perché pensiamo che con la meccanica quantistica riusciremo a fare della computazione meglio di quello che riusciamo a fare con i computer classici. Aspetta, partiamo da lì. Sì. Che senso pensiamo che? Nel senso che l'intuizione che gli scienziati hanno avuto una quarantina di anni fa è stata che noi non riusciamo a simulare la meccanica quantistica con i nostri computer. Gli algoritmi che abbiamo sono molto lenti, hanno un tempo di esecuzione che è esponenziale nella dimensione del sistema. e quindi qualcuno ha pensato bene di dire ma se noi invece prendiamo un problema che abbiamo lo encodiamo, lo mettiamo dentro la configurazione di un sistema fisico e usiamo la meccanica quantistica per far evolvere questo sistema fisico magari riusciamo ad arrivare alla soluzione prima di quanto riusciamo a fare con i computer classici. sono perso. Ma, cioè, ci sono i computer quantistici? Allora, ci sono, esistono o non esistono computer quantistici? Dipende da cosa chiamo i computer quantistici. In che senso? Nel senso che abbiamo dei piccoli prototipi Ok. Con 50 qubit circa. Sì. I qubit sono l'unità fondamentale di calcolo quantifico. Ok. E riusciamo a fare un po' di calcoli. Ma questi calcoli per adesso sono abbastanza inutili. Ok. Non riusciamo a fare delle cose che ci interessano su queste macchine. Ok. Mentre invece il tuo lavoro, quindi, se ho capito bene, però dimmi dove sbaglio, è l'utilizzo di computer quantistici cambia fondamentalmente, a parte le leggi della fisica della computazione che noi conosciamo, ma come andiamo fisicamente a programmare. Cioè, l'algoritmo normale, un bubble sort, cioè un algoritmo normale stupido, per funzionare bene nel mondo quantum deve essere completamente ridisegnato? Di solito sì. Di solito, cioè, ti ispiri all'algoritmo classico, ma usi dei building blocks che hai solamente nel mondo quantum. E questi building blocks, se usati con cautela, ti permettono di fare delle cose che classicamente magari non riusciresti a fare o faresti più lentamente. Tipicamente rompere gli algoritmi di cifratura? No, è un ottimo esempio. Quello è esattamente un ottimo esempio. Vuoi spiegarlo tu perché però la cifratura è dannata nel momento in cui il primo computer quantistico davvero funziona? Perché praticamente Shore nel 94 circa, questo Peter Shore, è riuscito a fare un algoritmo quantum che ha un tempo di esecuzione polinomiale che ti permette di rompere la crittografia che usiamo oggi. Non in anni luce, ma in minuti. Sì, quello dipende dall'implementazione, dall'hardware, da un sacco di cose. Quindi se davvero esistesse in questo momento segreto nascosto da qualche parte in una base... No, non esiste, cioè non esiste. Allora, dietro. Anche te però. Se esistesse un computer quantistico vero e funzionante in questo momento, la crittografia come la conosciamo noi, dalla carta di credito al siti web, eccetera, sarebbe completamente fottuta. Esatto. Corretto? La crittografia è chiave asimmetrica. Quindi tutta la crittografia che abbiamo basato sul problema di prendere un numero grande e scomporlo in fattori primi. Ok. Cioè RSA e curvellittiche. Eh, che non è proprio, cioè nel senso, è tutto quello che noi conosciamo e che usiamo norma... Cioè no, non tutto, perché ci sono i post, poi non ci arriviamo. Quindi è tutta ricerca teorica la tua... L'applicazione pratica di questa roba cos'è? Arriverà quando abbiamo l'hardware... Nell'arco della tua vita, pensi? Questo devi chiederlo a un fisico. Ok. Devi chiederlo a un fisico sperimentale o a qualcuno che si è occupato del problema. Diciamo che arriverà, arriverà. Sono abbastanza ottimista. Sono abbastanza ottimista. Ok. Se no, cambierai lavoro. Ovviamente. No, c'è gente a cui piace fare solo la parte totalmente... Conoscendoti no, non ti piace fare solo la tua parte teorica. Di base quindi il tuo lavoro è pensare modi per far funzionare cose che esistono o che esisteranno in via speculativa in un mondo, cioè è ipotizzare come il mondo sarà quando la roba quantistica esisterà davvero. Esatto, esatto. Beh, immagina comunque un ricercatore di algoritmi, un ricercatore di machine learning, può benissimo fare un nuovo algoritmo e limitarsi a pubblicare la parte teorica. Questo è quello più o meno che facciamo. Quanto machine learning? Come... Cioè, giusto, ci hai fatto un dottorato di ricerca. Come cambia? Cioè, come cambia rispetto a quello che noi vediamo adesso di machine learning applicato? Eh... La risposta vera è che non lo sappiamo ancora, perché abbiamo un sacco di risultati teorici che ti dicono che alcuni algoritmi sono più veloci di quelli classici. Però, per sentire veramente la differenza in tempo di esecuzione, questo vantaggio si vedrà probabilmente solo con grandi datasets. Ok. Quindi, se dobbiamo fare un machine learning model sul nostro laptop, probabilmente un computer quantum non ci aiuterà. Almeno nei prossimi anni. I primi computer quantum che avremo non... Ma c'è un'idea di quando saranno più o meno i primi computer quantum o... Ma... Si dice sempre tra dieci anni, no? Ok, sì. Da quello che ho capito, nel mondo della ricerca, tra dieci anni è... Sarcazzo. No, beh, diciamo che già adesso abbiamo delle macchine in cloud. Che possiamo usare. Però... Però pochi qubit, mi dicevi. Esatto, pochi qubit, non c'è... Cioè, sono per gioco, per ricerca, per studio. Google è riuscita nel 2019 a fare un software che impiega 200 millisecondi sul computer loro. Sì. Ma per simulare lo stesso outcome su un computer classico si sta, non so, due settimane sul supercomputer più grande della Terra. Ok, era la notizia che dicevano della quantum supremacy, no? Esatto. Quando è uscita la quantum... Cos'è la quantum supremacy? Sì, è proprio questa cosa qua. Il momento in cui riusciamo ad eseguire qualche software quantum che richiede tempo improponibile su dei computer classici. Ok. Ma... Fammi capire un secondo. Io oggi sono un'azienda. Inventiamo un'azienda grande, che ne so, un fondo di investimenti che so che usa algoritmi a palla, una società che fa modellazione di fisica, una società che fa crittografia, un governo che deve capire come spostarsi. O sono anche solo qualcuno che fa ricerca con, che ne so, folding, eccetera. Ma, da una persona come te, se io dovessi dirti, ok, ti do una consulenza, non so neanche se fai consulenza. Certamente. Ok, ok. Certamente. Allora, spottone, chiamatelo... Però, cosa ti chiedo? Nel senso, qual è il task che ti do? Perché di sicuro non è il... Voglio comprare un quantum computer, dimmi cosa ci posso fare sopra, perché da quanto ho capito non è ancora quello. Cosa fa una società? Beh, può sicuramente cercare di capire se ci sono dei vantaggi concreti nell'utilizzo del quantum computing. E per fare quello si trova di solito un caso d'uso interessante che poi noi, o il mondo della ricerca, studia per capire quando si riuscirà ad avere un certo vantaggio computazionale rispetto agli algoritmi classici. Non so, il problema di fare pricing di derivate, oppure ottimizzare gli algoritmi per rompere la crittografia che usiamo adesso, sono tutte cose che sono a pannaggio sia del mondo industriale che del mondo della ricerca adesso. Forse ho capito, non lo so, adesso vediamo. Avete capito cosa vuol dire quando dico mi sento stupido quando parlo con... Mi sento ignorante, magari non stupido, però... Esatto, esatto. In realtà, quindi, io, che sono un'azienda, potrei avere... Io la vedo... calcolo che io faccio gestione rischio, quindi io la vedo risk-based, però potrei avere due scenari. Uno, capire come posso ottimizzare quando arrivi... Due, per capire il pericolo che ce la fa. Esatto. Quanto sono fottuto, perché io sto pensando, ad esempio, pensa, penso a grandi fondi di investimento, grandi, magari, edge fund, che fanno algoritmi di un certo tipo, che per adesso sono da capire dall'esterno e da controbattere dall'esterno, impossibili matematicamente, ma nel momento del quantum diventano magari anche quelli banali da desumere e quindi azionare con... Cioè, cose di questo tipo? Sì, sì. Ogni azienda può avere le cose sulle quali è interessata, appunto. Noi facciamo un po' di criptografia, studiamo come ottimizzare il circuito dell'algoritmo che vuoi eseguire e quindi magari te lo ottimizziamo un po' e questo fa sì che al posto di eseguirlo tra x anni, lo esegui tra x meno due anni. Quindi ce l'hai un pochino prima. Uh, non l'avevo pensato. Sì, tu dici... Tu hai questo problema, io cerco di dirti uno quando lo puoi risolvere e cerco di fartelo eseguire il prima possibile. Sì, praticamente preparo il codice... È come se preparassi codice per una macchina che non c'è ancora. È come se due anni prima che uscissero le macchine con le GPU per fare roba io avessi già pronto gli algoritmi e quindi nel momento in cui domani qualcuno ti dice ok, te lo vendo, mentre gli altri hanno due o tre anni di ricerca davanti per... Esattamente. Tu parti da quel punto... Sempre sulla scommessa, mettiamola così, che in tempi utili questa cosa diventerà bello. Cioè è un po' frustrante non vederlo forse in azione, no? Cioè fare... Un pochino, però piano piano si riuscirà. Siamo abbastanza ottimisti. Nel senso non vedo all'interno della community di chi fa Quantum Technologies dei grandi red flag o qualcosa che non abbiamo ancora capito, che altri non hanno ancora capito. Sono tutti abbastanza sicuri che le cose da fare siano fattibili. Prima o poi si riuscirà a farle. Il problema è riuscire a mettere assieme abbastanza qubit che possiamo controllare senza tanta interferenza dal mondo esterno. Senza tanto rumore che ci fa collassare la funzione d'onda. Queste cose un po' strane. Oddio, perché stiamo parlando sempre di meccanica quantistica. Quindi in realtà la possibilità di perturbare un... Cioè è quasi più difficile isolarlo che farlo funzionare nel mondo esterno? Se riuscissimo a isolarlo sarebbe un grande passo avanti per riuscire a controllarlo, sì. Facciamo un breve. Perché io ho capito che cosa stai dicendo, però l'ho capito perché ho letto un sacco di roba. Lo spieghiamo a chi non ha capito. Cioè come funziona un qubit? Come funziona? No, nel senso... Che cos'è? Dietro... Perché... Cioè come lo spieghi a uno che non ha mai visto la meccanica quantistica una roba del genere? È una domanda difficile perché io sono un computer scientist mentre questa è una domanda da fisico. Però l'idea che mi sono fatto... Amici fisici lo spiegherà male. Se un fisico vuole venire qua e fare un'ora per raccontare come funziona volentieri. Per adesso ho qui lui e lo spiega sicuramente meglio di come lo spiegherei io. Detto quel. Visiamo. Per me un qubit è semplicemente un vettore di dimensione 2 e fisicamente questa cosa la implementi come un sistema a due livelli che può essere lo spin di un elettrone o qualcosa che si comporta secondo le leggi della meccanica quantistica. Quello che poi sarà nella realtà questo qubit ci sono una dozzina di tecnologie diverse per implementarli quella che sarà la tecnologia funzionante non spetta a me dirlo, non lo so. Lo deciderà, credo, il mercato, gli scienziati che fanno questa cosa. Dipenderà da fortuna dei ricercatori che faranno le scelte giuste per capire cosa funzionerà effettivamente. Scusa, io non è che voglio infierire, però è davvero frustrante da un certo punto di vista. Cioè nel senso, tu ti trovi a dover fare degli algoritmi per una roba che non sai se funziona, no, allora sei moderatamente convinto, sei molto convinto che prima o poi funzionerà, ma non lo sai se funzionerà o meno. Di cui non hai il controllo, perché non sei tu che dici mi impegno di più e cazzo lo faccio funzionare e più che tu dici non so neanche in che modo ci arriveranno ma io mi fido dei colleghi fisici per riuscire a fare questa cosa. Cioè, detto così è veramente triste, perdonami. Così è molto triste, sì, 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 soprattutto la parte di fidarsi dei fisici. No, no, però l'unica cosa che posso fare è ottimizzare gli algoritmi in modo tale che girino sull'hardware il prima possibile. Ok, che però anche quello non è... Allora, noi lo stiamo dicendo come se fosse una cosa così, tipo ottimizzo, mi metto lì, faccio un design. È un po' più complesso di così, no? Luceschi, cioè tu hai fatto paper su come alcuni algoritmi, cioè parte della tua ricerca era proprio come prendere gli algoritmi che noi conosciamo di machine learning. Cosa vuol dire, nel senso, per un profano, cosa vuol dire fare ricerca per cambiare? Cioè, cosa cambia, da dove parti, cosa... Ma è abbastanza la stessa cosa che si fa col machine learning classico. Quindi a un certo punto tu dici, ok, ho questo dataset e voglio fare quella cosa che si dice fittare un modello, il training di un modello di machine learning. E quindi tu inizi a processare questi dati ed estrai quello che... Ok, e quello lo facciamo con TensorFlow, lo facciamo con... Esattamente. Quello che fai normalmente, tu hai un dataset e ti tiri fuori. Tu col quantum, che fai? Beh, assumi di avere in qualche modo accesso a questo dataset sul computer quantistico e poi cerchi di ricreare delle operazioni che ti portano allo stesso risultato del machine learning classico. Cioè vai a vedere la matematica che fonda ogni singola parte, il calcolo matriciale, quelle cose. Assolutamente, esatto, esatto. E ti dici, attenzione... E lo rifai, quantum. Per calcolare il determinante di una matrice... Esattamente. Una serie di... Non ci siamo messi d'accordo su questa cosa. Un po' di moltiplicazioni dietro a una matrice, più o meno. Con la fisica classica lo faresti così. Se lo fai sulle macchine che hanno la GPU, cioè ci sono questi trucchi che lo ottimizzano, qui devo partire da zero e dire, allora, come si fanno le moltiplicazioni su... Sì, sì, esatto, esatto. Ma la cosa bella è che per descrivere la meccanica quantistica usiamo linear algebra. Ok. E quindi se per il machine learning usiamo linear algebra, i TensorFlow, abbiamo già le stesse cose, gli stessi building blocks sul computer quantum. Perché sostanzialmente questa cosa prende dei vettori e li fa evolvere in altri vettori. Ok. E quindi... Cioè, tu prendi come lo si fa adesso, come algoritmi. Ritorni un pelino indietro, sulla parte di algebra lineare, sottesa a quello. Poi dici, ok, però aspetta, questa roba in algebra lineare non si fa così con questo comando, ma si fa in quest'altro modo. Esatto. E poi emuli quanto questa cosa alza le performance? Come funziona? Quello lì è l'output della mia ricerca e sostanzialmente è un teorema che ti dice in questo tempo di esecuzione, che dipende dall'input, proprietà dell'input, non so quanto è grande la matrice e quante righe ha altre cose più tecniche. Sì. E in questo tempo di esecuzione riesco a fare questa cosa con un certo errore di approssimazione. perché magari non faccio il calcolo esatto del determinante, ma lo approssimo con un certo errore. Che è un errore che so che comunque non compromette il risultato finale, ma velocizza particolarmente. Yes. E quindi poi alla... Sto banalizzando ovviamente tutto, sto banalizzando, perdonatemi. Quindi alla fine del tuo... Cioè l'ipotesi del paper è esiste un modo per fare questa cosa che noi conosciamo da Antani e Tapioco nel 73, Pulcinella del 82, il miglior fittato è questa roba qua. La mia ipotesi di ricerca è che utilizzando algoritmi quantum si possa trovare un qualcosa che funziona meglio e quando le cose vanno bene il risultato finale è qui ci metto x migliaia di millisecondi, no, se cazzo ci metto pochi eh, qui ci metto molto di meno? Esatto, l'idea è quella. E alcuni dei paper che hai fatto tu sono quello? Di base sì, esattamente, esattamente. Ok. Sì. Perché, allora, voi dovete capire che lui mi sovrastima tantissimo, ogni tanto mi manda i paper e io sono felici, non gli ho mai detto non mandarmeli perché non ci capisco un cazzo, perché è molto bello il fatto che mi dica guarda, guarda che bello questa cosa e mi dica, è un po' come quando, che ne so, quando io iniziavo col computer facevo vedere mia mamma che avevo codato una roba e mi guarda e mi dice Bravo. Bravo Matteo, ma che bello che è. Questa tua mamma non è bello. Vabbè, ogni tanto mi sento come se, quando io faccio le carezzine a B, quando lui mi fa le... Cioè, bravo Matteo, bravo. Ma io sono bit in quel caso, attenzione, e non quantum dot. E le aziende ti pagano, spero bene, mettiamola così, per fare questa cosa. Cioè, io sono intesa, intesa o sa il cazzo chi è di banca, ho degli algoritmi. Che tipo di algoritmi ho? Una banca che tipo di algoritmi ha? Banche, per esempio, possono essere interessate a capire se il quantum computing può aiutare per fare pricing di derivati o stimare meglio il rischio al quale sono esposti con il loro portafoglio, trovare portafogli migliori, aumentare il rendimento del portafoglio, diminuire il rischio. Ok, sempre con cose che già usano con altri algoritmi, ma che sono molto dispendiosi, che hanno... Esatto. Altre, senza fare nomi di clienti che non si può, lo so se non ti sparano. altri use case pratici? Cioè, vorrei che qualcuno dall'altra parte dicesse ah, caspita, non ci avevo pensato. Quindi l'idea è... Tutte le simulazioni Monte Carlo sono possibilmente... Monte Carlo mi ricordo solo il cerchio per calcolare pi greco. Mi ricordo solo quello... Sì, esatto, esatto, esatto. Ok? Quindi tutta la parte di random, cioè buttare numeri random per vedere se approssimano. Ma dove lo usi? Cioè, dove usi? Per esempio in finanza usi tantissimo Monte Carlo per fare simulazioni sul futuro. Ok. Quindi hai un tuo modello di mercato. Ok. Puoi modellare le cose con Black Shoals e dici, ok, oggi i prezzi dei miei asset sono questi. Secondo il modello si evolveranno in una certa direzione con una certa probabilità. e basando su quello puoi calcolare... Ma siamo ancora a finanza? Altre cose che non siano finanza? Altre cose può essere drug discovery, simulazioni di chemistry. Uh! Drug discovery... Cioè, ricerca medica per trovare nuove... nuove... Molecole. Nuove medicinali, nuove molecole. Sì, ho proprietà fisiche di materiali. Ok. Queste cose qua. Bello. Molto interessante. Sì. Lo butto lì. Tanto gov. Tanto government, vero? Sono interessati per la parte di security. Certo. Per capire quando... Sia la parte di ROM per la criptografia, sia la parte di quantum cryptography. E li ritorniamo a quello che ci diciamo. Post quantum cryptography è post quantum cryptography. Un algoritmo sviluppato oggi che possa sopravvivere in un mondo di computer quantistici. Sì. Corretto? Yes. Ok. Yes. E lì tanto, anche lì, di ricerca. Più interessati a sviluppare qualcosa che sopravvive nella tua esperienza o più interessati a capire quando sono fottuti e in cosa? Eh, sono profili diversi che si trattano di cose diverse. Però sono sicuramente tutte le due cose importanti. Esatto, perché le era... Cioè, che ne so, le apparati che io ho di trasmissione radio, che sono hardware, quando me li bucano la sistema... Anche perché immagino, poi dimmi tu se sbaglio, però immagino che è quasi a livello infrastruttura. Cioè, non è questione solo di cambio il software, perché magari ho giù decine di migliaia di ripetitori e cose varie che devo fisicamente cambiare, aggiornare e roba. nel bancario significa... Beh, il circuito di carte di credito in millisecondi. Beh, ma... Quei due player sono sicuramente interessati al quantum e stanno dietro alla ricerca. Ok. C'hanno team dentro che si occupano di quantum. Giustamente. Bello. Qual è... C'è la possibilità che dopo domani qualcuno arrivi e ti dica abbiamo trovato quel tipping point che fai in modo che il computer diventi realtà in 24 mesi invece che in 24 anni? Beh, sicuramente ci saranno dei breakthrough, più di uno. Sì. Perché con uno non andiamo da nessuna parte, ma servono più breakthrough e soprattutto in parti diverse dello stack quantum. Ok. Quindi io avrei bisogno di breakthrough per la parte di error correction, breakthrough per la parte di control di questi qubit, per la parte di come farli... metterli nello stesso spazio fisico dei breakthrough sul... gestione di questo rumore quantum. Quindi, sì, più breakthrough sono expected, diciamo. Ok, quindi non ci sarà il momento di epifania così che trovi quella roba che fa funzionare, no. Di certo non cambierà dal giorno alla notte. Ok. Però magari, capito, passi da mille qubit a diecimila magari. Beh, che comunque... Ma conta che adesso per fare factoring con il tipo di computer di qubit che usano a Google, superconducting qubit, che sono andati per la maggiore negli ultimi anni, te ne servono circa 20 milioni, ma anche meno. Per rompere un qualcosa di... RSA 2048. Ok, per rompere RSA ti servono 10 milioni di qubit? 20 milioni, ma anche meno. Possiamo dire 10. Ok. E siamo a 50? Il più grande... Il più grande che è stato fatto? Esatto. Ma forse anche 100 dipende da cosa è qubit per te. Ok. Quindi possiamo ipotizzare che da qualche parte ci sia qualcosa che ne abbia che ne so mille che non solo in... Cioè nel senso 10 volte di più di quello che... Ma siamo ancora 6. Cioè nel senso probabilmente non c'è da qualche parte qualcuno che ha fatto... che tiene nascosto una roba da un milione di qubit. Non credo. Ok. Non credo. No, sembra un po' paranoico però nel senso è abbastanza normale che se il mondo corporate eccetera è arrivato a X magari l'abbiamo visto con tanti algoritmi cioè rompere cifrature eccetera magari 10 volte tanto 100 volte tanto esiste qualcosa che è in questo momento in stealth non milioni di volte più. Assolutamente no 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 credo che ci siano troppi interessi dietro per tenere nascoste certe cose ok domanda e la I in questo la I moderna c'è qualcuno che sta cercando di modellare cioè di fare ricerca utilizzando perché è una delle cose che mi fanno più impazzire in senso buono di adesso che sono obbligato per lavoro a guardare tutte le implementazioni che c'è e sono i percorsi di ricerca non umani cioè quello che Bostrom chiama il problema dell'ortogonalità cioè le macchine pensano ammesso che si possa usare il pensano in modo diverso e quindi tutto quello che stanno facendo come ricerca in questo momento è dire tutto una buona parte è dire cerca percorsi diversi da quelli che stiamo facendo lì qualcosa potrebbe uscire di ricerca su usando LLM per dire LLM o altre cose uso un LLM per capire che ricerca fare eh Terence Tao dice che già serve per fare ricerca in matematica ecco meglio per contraddire lui ok mi sembra un'ottima risposta del tipo non mettermi nella condizione di dire contraddico beh diciamo che un LLM adesso è molto utile per scrivere i grant sei una persona orribile per i finanziamenti ok però ti posso dire ti posso dire che mi dicono dalla regia amici nella pubblica amministrazione che è perfetto anche per fare i bandi della pubblica amministrazione perché tutta la parte è fuffosa dietro la scrive benissimo vabbè no però ho visto tante tante cose applicate a medicina a folding model adesso c'è chi ci prova con la matematica sarebbe divertente sì 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 eh vabbè no di sicuro c'è qualcosa che quindi ma c'è c'è un copilot per lean lean è tipo un linguaggio per fare più improving e hanno messo un LLM sopra lean quindi tu inizi a scrivere aspetta c'è un linguaggio che fa modellazione delle prove matematiche sì tu vuoi avere una proof di un teorema e vuoi che sia ceccata formalmente da un software e utilizzi un linguaggio che si chiama lean ok e puoi avere il copilot di lean urca sì quindi ti aiuta a scrivere la proof e funziona bene ci hai provato dicono io non ci ho provato dicono che funziona ma allora a me di questa cosa piace tanto l'idea che semplicemente guadagni tempo per una roba che non è core cioè più tempo per pensare e meno tempo per fare tutto l'accessorio che però per adesso invece ti richiedeva talmente tanto skill che dovevi metterlo tu perché ci vuole post doc per fare una roba del genere non ci vuole lo stagista da ma quindi tu pensi di andare in pensione usando i computer quantistici o no? chissà se andrò mai in pensione quello è vero scusa speriamo ma sì dai ok no non ti terrò accountable del fatto di poter dire no e non è vero quando avremo tutti e due 80 anni e saremo davanti al cantiere virtuale nel metaverso io ti dirò ti ricordi quella volta nel video x che facevamo questa cosa quindi non è vero come stanno dicendo un po' di gente in giro che il quantum è il nuovo metaverso beh chi lo sa no spero di no spero di no abbiamo un po' di ottimismo risultati risultati continuano ad arrivare servirebbe qualcosa di un risultato bello dove si dice guarda effettivamente abbiamo un vantaggio su un certo tipo di problema ok però indipendentemente da quello quello che mi porto a casa oggi è che vale la pena probabilmente investire in ricerca pagare lui o click perché non volevo fare lo spottone in realtà si volevo fare lo spottone ma va bene uguale vale la pena però pagare qualcuno che faccia ricerca per capire uno quali potrebbero essere gli impatti nella mia in questo momento nella mia industria o dall'altra parte come e quando io potrò riuscire a fare che cosa delle cose che faccio col quantum ma quindi una roba del genere cos'è una subscription nel senso inteso io ti commissiono qualcosa ma poi cambia talmente tanto il tutto che io potrei tra due mesi dovresti telefonarmi e dirmi oh ma a te ti ricordi quando ho detto quella roba là si può o anzi adesso abbiamo scoperto che ci vorranno dieci anni in più o in meno o in meno si spera in meno si spera in meno è così che funziona sì ok dipende dal problema della persona se siamo in un contesto industriale o accademico però quindi la gente ti paga per fare questa cosa e per fare tanta ricerca sì sai che io faticavo a trovare qualcuno che avesse un qualcosa da spiegare di come di perché gli danno i soldi è più difficile di me perché io io sono arrivato a dire mi pagano per far cambiare opinione alle persone che è la cosa più normale in genere però non è non è facile se tu devi andare da tua mamma e dire ma perché ti danno i soldi mamma mi danno i soldi per capire come se sei il quanto per disegnare la lavagna delle cose belle vabbè dai cioè ci sono soldi cioè c'è gente che ruba soldi per farmi allora prima di andare via invece poi ti saluto chiudiamo santo mezz'ora grazie mille anzi eccetera ma lui tra poco deve scappare proprio fisicamente io poi vi mando su ve lo metto qua sopra in sovraimpressione quantumalgorithms.org che è una roba molto figa molto molto figa premesso che se lo iniziate a leggere non ci capite una mazza non è colpa sua è colpa vostra ma non vi giudichiamo che è il tuo corso di quantumalgorithms si sono delle lecture notes che è un libro non è una lecture cioè andate a vedere lecture notes ma inteso non come quattro slide centinaia di pagine di roba è un progettino open source dove la gente può imparare a scrivere i propri algoritmi quantistici e sono i corsi che avevi fatto al Politecnico no? si sono quantum machine learning in practice che avevi fatto e poi l'altro applied quantum computing si sono computing esatto sono pensati per computer scientist e matematici quindi ho cercato di rimuovere tutta la fisica quantistica e rimane solo l'algero lineare ok quindi se sei un matematico e vuoi capire come la matematico cioè come vengono impiementata questa roba in un mondo quantum o se sei un programmatore esatto che dici cosa devo imparare per passare a quantum quello è un buon punto di partenza si lo spero fico fatecelo sapere esatto nel frattempo contribuite con un fork sì perché è tutto open source quindi ovviamente esatto noi con questa fissa open source closed e via cioè va bene ehi grazie mille grazie a te e noi ci vediamo presto se avete domande vi lascio i contatti sopra ciao 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 Grazie a tutti